La sindrome metabolica è una condizione clinica grave, sempre più diffusa, che è ormai arrivata ad interessare oltre il 20% della popolazione in Italia. Essenzialmente la sindrome consiste in una combinazione pericolosa di alcuni disordini metabolici tra loro correlati, come l'obesità, l'intolleranza al glucosio, la dislipidemia e l'ipertensione. La diagnosi si basa sulla misurazione di alcuni semplici parametri, come la circonferenza addominale, che nell'uomo deve essere inferiore a 102 cm, la glicemia a digiuno, la pressione arteriosa, i livelli di trigliceridi e i livelli di colesterolo HDL. Una alterazione anche minima ma concomitante di almeno 3 di questi 5 parametri definisce la diagnosi di sindrome metabolica. Siccome la sindrome non si manifesta con sintomi specifici e può interessare anche persone che riferiscono di essere in buona salute, è opportuno un controllo periodico e regolare di questi 5 parametri. Le cause della sindrome sono da ricercare in una combinazione di abitudini di vita inadeguate, come l'eccessiva alimentazione e la sedentarietà, che agiscono in sinergia con fattori genetici predisponenti e con l'età. Protratte nel tempo queste abitudini errate determinano un accumulo di grasso nell'addome, nei visceri, in particolare nel fegato, innescando così una reazione infiammatoria cronica nell'organismo, definita infiammazione metabolica, che costituisce il terreno fertile per lo sviluppo della sindrome. Grazie a tutti.